Ciao a tutti, questa è la seconda parte della mia giornata libra. Mi sono cambiata e sono andata a fare un passeggiato con Leo. Poi gli ho asciugato le zampe e poi ho anche accelerato. Poi ho fatto collezione. Poi ho studiato la mia battuta perché avremo un teatro a scuola. Poi ho deciso di giocare sul tablet. Ed eccomi qui a giocare con Leo. Ho scattato questa foto per caso ma è bellissima. E poi sono andata a fare una passeggiata al parco con la mia famiglia e così si è conclusa la mia giornata. Ciao e buonanotte a tutti. Ascoltate questi suoni.